Salve a tutti, ben ritrovate, sono sempre io, Marcello Palmisano, sono un micologo e faccio parte dell'associazione micologica delle Valle di Cri di Martina Franca. Scusate la mia voce, ma dovete abituarvi al tono basso e soprattutto al rispetto che bisogna avere per il bosco, in quanto ogni rumore potrebbe sfaventare la fauna. Facendo una passeggiata nei boschi di Martina Franca mi sono imbattuto in una specie molto comune, anzi in due specie molto comuni, tipiche di questo periodo dell'autunno. La particolarità di questa mia scoperta oggi è stato del fatto che ho trovato una specie che è fascicolata, quindi due specie, quindi due generi completamente diversi, che sono fascicolati nati vicino al tronco di un albero, insieme, appiccicati. Perché è particolare? Perché purtroppo c'è la credenza che i fughi che nascono insieme, se uno è commestibile, sono tutti commestibili, se ci sono quelli tossici, sono tutti tossici. In questo caso ho trovato questo ceppino, vedete, ha l'apparenza identico, con in effetti due genere completamente diversi. Adesso lo spacco per separare, questo qui si è rotto, ecco, si è rotto completamente, perfetto, ok, fa parte della della diretta. Ecco i due generi e le due specie completamente diverse. Uno è commestibile, anche se ha delle tossine termolabili, che vanno via o con una prebollitura o con un'adeguata cottura trifolata, fino all'eliminazione completa dell'acqua di cottura, senza coperchio, possibilmente. Mentre l'altra è la specie sosia, tipicamente uguale come crescita. In questo caso, come avevo detto, era nata completamente attaccata al gambo, alla base del gambo. Diamo un'occhiata a questi due generi. Partiamo con il primo. si tratta di un'armillaria. Nel genere è armillaria. L'armillaria è un fungo con cappello e gambo. Ha un anellino che è pendulo, abbastanza persistente. Pendulo significa che è attaccato nella parte alta del gambo e poi, come un gondellino, scende giù. Non so se riuscite a notarlo. Ecco, facciamo così. Perfetto. Questo fungo, come vi dicevo, è un fungo commestibile e anche incluso negli elenchi delle specie commercializzabili. Ma ha questa particolarità comunque di avere queste tossine che non ci permettono effettivamente una cottura non adeguata. Rimarchiamo sempre il concetto che i funghi vanno sempre consumati, soltanto se si è riconosciuto il genere della specie, e dopo adeguata cottura. Quindi toglietevi dalla testa la possibilità di mangiare funghi crudi, indigeribili, e a volte anche portatrici di intolleranza alimentare. Allora, continuiamo a dare un'occhiata all'armillaria. La guardiamo dalla parte dell'imegno, l'imegno è la parte sottostante al cappello, ed è il luogo dove vengono generate le spore, cioè il seme, che verrà poi disperso nell'ambiente. Nel momento in cui l'esporre uno su un milione ce lo fa, nel senso che non tutte diventano poi fertili, vanno a trovare il micelio dello stesso genere, si sviluppa la specie. Le lamelle sono bianche, con l'età diventano un po' più giallastre, scuriscono un po', ma fondamentalmente rimangono biancastre, qui non so se si vede bene, ma la tonalità del cappello è color miele, anche per quello viene chiamata armillaria mellea, e anche l'odore non è sgradevole, diciamo che è mielato e dolce, ma non è neanche eccezionale. La sporata, quindi le spore in massa sono bianche, quando trovate questi ceppi, a volte è sufficiente, in questo caso no, perché ancora i funghi sono abbastanza piccoli, non sono maturi, quindi la sporata non è ancora diciamo partita, ma basterebbe spostare un po' i cappellini per vedere sul cappello sottostante se ci sono delle tracce di polvere sporale. in questo caso troverete le tracce di colore bianco, perché la polvere sporale è bianca. se noi prendiamo un armillaria, una sola, e la sezioniamo, quindi la facciamo a metà, scusate non ho portato il coltello con me, però facilmente sezionabile, noteremo che all'interno la carne di questo fungo è bianca. Le lamelle sono per un piccolo tratto decorrenti sul gambo, il gambo è completamente fibroso, ovviamente nel genere armillaria, sia l'amellia che la tabacens, che è comunque un fungo non lignicolo, come questo qui, ma cresce probabilmente su terra e non ha l'anellino, l'armillaria ha la particolarità di questo gambo molto coreaceo, che ovviamente deve essere eliminato quasi completamente, io vi consiglierei, se magari la trovate, di tagliarlo fino a sotto, a sopra l'anello. Vi rimarrà questo cappellino che dovrà essere bollito per almeno 15 minuti, eliminando con un qualcosa, aiutandovi con un attrezzo, eliminando quella schiuma che si crea sulla bollitura e poi completamente eliminato l'acqua di cottura. Nell'acqua di cottura finiscono le tossine tossiche di questo fungo. Se è mangiato crudo c'è una sindrome gastrointestinale molto acuta, crudo o poco cotto ovviamente. Qui ci sono tre gradi oggi, diciamo che è abbastanza freddo, quando questi funghi subiscono delle gelature, la possibilità di eliminare le tossine diventa sempre minore, quindi vi consiglio di non raccoglierle con le gelature. Sono funghi parassiti, distruggono un albero vivo, si trovano una ferita, quindi nascono su alberi ancora vittime, poi diventano anche si approfitti. Una volta che l'albero muore, ovviamente non per colpa loro ma muore perché l'albero è malato, continuano la loro opera fino a consumare completamente la legnina dell'albero, renderlo completamente morto. E questa è l'armillaria meglia. Pochi caratteri per riconoscerlo dal vivo. Passiamo adesso all'ifoloma fascicolare, come vedete ha lo stesso ambiente di crescita, la stessa forma di crescita. Nel caso specifico i due ceppi erano attaccati, scusate, è quindi ancora più complicato per un raccoglitore non esperto, vista la somiglianza molto profonda, se non si ha un occhio attento, cioè se si vede il fungo ma non si guarda, questo è il senso. Ancora scusate ma fa freddo e sono raffreddatissimo. Dicevo, c'è il pericolo di confusione. Se guardiamo sul cappello noteremo la sporata scura, questo esemplare era appoggiato sotto l'altro cappello, le spore sono cadute, e le spore sono scure, quindi non si tratta più di un fungo leucosporio. Sotto le lamelle vanno dal giallo al violaceo fino a diventare completamente nere. C'è uno pseudoanellino, qualcosa che dà l'idea che sia un anello, ma non un anello, è un residuo di un velo molto fragile, molto inconsistente. Adesso ne stacchiamo sempre uno, in modo che vediamo il discorso del gambo. Anche in questo caso il gambo è fibroso. Come quello dell'armillaria meglia, è completamente fibroso. L'ifoloma fascicolare, facendo una sezione a metà, noterete che la carne non è più bianca come quella dell'armillaria, ma è una carne gialla, prevalentemente giallina. Quindi anche questo dovrebbe esserci di aiuto, oltre e soprattutto al colore delle spore, da cercare sul cappello guardando sotto l'imegno. Le lamelle non sono leggermente decorrenti, ma sono uncinate al gambo. I termini micologici dovete studiarli un po' perché sono importanti. Il colore del cappello ricorda quello dell'armillaria meglia. L'odore non ha odori particolari, anche se è abbastanza forte. A me mi dà l'idea di una scarpa un po' umida. Questo è un fungo tossico. È amarissimo. Quindi mi auguro che nel momento in cui ci sia un errore di determinazione, comunque sentite questo, se avete raccolto le armillari, quindi siete convinti di aver raccolto quello che viene chiamato la famigliura buona, questo sapore è molto amaro, vi deve far subito buttare tutto quello che avete raccolto. Io per oggi ho finito, vi ringrazio, vi saluto e continuerò a spiegarvi qualche altra specie nel corso della stagione autunnale. Arrivederci a tutti.